Quante milioni avete fatto puntando con tale quale quest'anno? Sette milioni e sette Sette milioni e sette, una media di sette milioni più o meno Una puntata con tale quale su Roy1 Lei ha vinto una puntata con il grano che ci fa sentire adesso Ha vinto la sua edizione, ha vinto la sfida dei super campioni Ma l'avete vista tutti? Gruppi di ascolto in tutta Italia e non solo Per Serena Rossi Grazie, io ci provo, è tanto tempo che non la canto Sono anche un po' imbriaca, ma va bene così Tanto tempo che non la canto e sono due settimane che non la cantino Maia, maia Aiuto, ci provo Vediamo che succede Con la mia, con la mia Facciamo Mariah Carey, vediamo cosa si fa Grazie 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 Grazie